Ok ragazzi, benvenuti, buongiorno, oggi è sabato e oggi voglio un mini vlog, voglio parlarvi in questo mini vlog Vabbè, i miei video recenti, non lasciate stare le live che faccio ogni tanto Ma i video tipo quelli lì, sei stato mai a zoccole? Che ha avuto un po' di successo in più rispetto alle live E ho pensato, vabbè dai facciamo allora, farò questi generi di video, tra virgolette Però non ho tutto questo tempo, non ho idea, quindi mi dovete aiutare tramite i social, su Instagram, in direct Mi dite, fai questo, fai quello, ma non faccio cose, è stupide, molto stupide Stupide sì, ma molto stupide no, perché se no, che cazzo Poi ho in mente di creare, no di creare, allora io ce l'ho già, ce l'ho con un profilo Twitch Twitch, che cos'è, una piattaforma per streamer Si fa stream, 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 poi mini clip si possono caricare pure, ma principalmente sulle stream E io, lì vabbè, porterei lì le cose di stream Tipo i videogiochi, cioè forza videogiochi, tipo Fortnite, FIFA, li porto lì E invece su questo canale di YouTube porterò le cose fisiche Tipo quei due video, prank, challenge, vlog, mini vlog, vlog Proverò a fare vlog in famiglia, quotidiani Almeno una volta ogni tanto E niente, questo è il mio resume Di che cosa farò Ho già fatto il... ho già rimodificato il canale di Twitch Ce l'avevo già Giocavo ai tempi della stagione 3 di Fortnite Non so se avete presente Siamo alla stagione 6 Ogni stagione dura circa 60 giorni Sì Dei 60 anche i 70, dipende Dipende come va Comunque, 3 stagioni fa Quindi sono ben 6 mesi fa Pure di più 7 mesi fa che non gioco Che non streammo su quel canale E adesso l'ho rieperto Quindi vi lascio il link di questo canale in descrizione Così andate a seguirlo tutti Almeno chi è di qua lo va a seguire lì Tanto non costa niente seguirmi Dovete solo iscrivervi Mettere i follow al cuoricino Come Instagram, più o meno Un cuoricino più o meno Come Twitch E mi seguite Ancora non c'ho il coso abbonati Vedremo Se arriveremo un profitto buono Forse Ma l'importante è che voi Questi qui che siete iscritti qui Prendete, cliccate su questo link Che c'è in descrizione E vi iscrivete al canale Twitch Tanto c'è l'applicazione Che è leggerissima Non costa nulla Ed è pur una bella qualità Quindi mi raccomando Lì ancora all'orario Non lo so Di quando farò Le stream Ma penso molto probabilmente Una la farò il pomeriggio Non sempre E una non sempre Sempre la sera Stasera non penso Quindi la farò oggi una pomeriggio Cioè oggi sabato Vabbè non so se questo video uscirà Stasera O pomeriggio Sicuro non adesso Perché non c'ho la linea adatta Per caricarlo qui Quindi ragazzi Niente Fate quello che vi ho detto Mi raccomando Spero un sacco Che vi possano piacere Queste cose Pure questi vlog Challenge Prank E risposte Multime Tutti stai qua Niente Ci vediamo in un prossimo video Da Nico Mars è tutto Passate su Twitch Mi raccomando Che sennò Scatta la rissa Ha ha